in questo video voglio presentarvi le majorette che ho acquistato domenica scorsa al mercatino delle pulci qui alle porte di milano ad assago da dire la verità non ho trovato tanti modelli ne ho acquistate soltanto 7 alcune in condizioni decisamente pessime con lo scopo ovviamente di restaurarle però alcune anche in discrete se non buone condizioni non ne ho trovate tante dicevo però sono particolarmente soddisfatto perché ho trovato diversi alcuni modelli che non avevo nella mia collezione improvvisata di majorette vintage acquistate ai mercatini delle pulci e direi anche almeno una che definirei decisamente notevole di cui sono particolarmente contento comunque vediamole nel dettaglio iniziamo la carrellata con la toyota runner numero 276 prodotta tra il 1994 e il 2013 dalla majorette questa in particolare è il first release quindi la prima versione rilasciata sul mercato tra il 1994 e il 1998 l'automobilino è chiaramente danneggiata soprattutto la vernice è stata in gran parte persa però la struttura è ancora piuttosto solida le sospensioni sono un po morbide però vanno bene la base è integra i trasparenti sono ancora a posto a parte forse qui che sono leggermente scalfiti il gancio e la parte in plastica direi che vanno ancora bene quindi questa è sicuramente un ottimo un ottima candidata per un futuro restauro questa invece è la fiat tipo 286 prodotta sempre dalla majorette tra il 1990 al 1995 questa è la versione del 1993 in questo caso le condizioni sono migliori rispetto alla toyota runner a parte la vernice che presenta qualche piccolo difetto però per il resto l'automobilina è ancora in buone condizioni è molto sporca quindi insomma sicuramente bisogna dare una ripulita le ruote e le sospensioni direi che vanno bene solo la base è decisamente ossidata questo è un modellino più recente però decisamente in buone condizioni è l'espace prodotto tra il 1994 e il 2004 questa è l'ultima versione rilasciata sul mercato tra il 2002 e il 2004 in questo caso direi che sono stato fortunato perché l'automobilina è ancora in ottime condizioni sotto tutti i punti di vista la vernice è da parte quel che è ancora molto integra la base è decisamente pulita e lucida l'automobilina non ha delle sospensioni infatti non è una delle majorette diciamo dannata e in effetti per questa ragione le ruote forse ne hanno più del resto hanno risentito degli anni soprattutto quelle davanti sono un po' sbalestrate ecco due automobili da corsa la prima quella blu è la Shadow DN5 numero 243 prodotta tra il 1977 e il 1985 questa è la versione del 1982 la versione blu perché la prima versione rilasciata è quella nera direi che è in discrete condizioni forse un po' di ruggine sulle assi delle ruote però l'omino è presente le decole sono chiaramente un po' scolorite però neanche tanto qualche danno sulla vernice ma nel complesso è una automobilina datata 40 anni ma ancora discreta sono invece molto contento di aver trovato questa versione della ferrari 312 t2 la numero 232 questa è stata prodotta tra il 1977 e il 1983 questa è l'ultima versione rilasciata tra l'82 e l'83 però mi mancava questa Magiorette non l'avevo proprio e tra l'altro l'ho trovata in condizioni anche discrete perché comunque la vernice è abbastanza integra direi decisamente integra l'omino è al volante perfettamente al volante quindi non è saltato via le decal sono un po' scolorite ma questo è inevitabile però anche queste parti in plastica sono ancora integre sono presenti quindi sicuramente sono soddisfatto di questo acquisto questa è la turbo bmw la numero 217 prodotta tra il 1976 e il 1983 questa bianca è la versione del 1982 io ne ho anche altre di turbo bmw versioni quelle grigie soprattutto però insomma questa per un euro è sempre comunque una Magiorette piuttosto antica perché ha una quarantina d'anni e ancora a parte la vernice che è screpolata però in ottime condizioni anche le porte si aprono e si chiudono perfettamente e direi che per un euro vale sempre la pena acquistarla tra l'altro io questa variante bianca non l'avevo e vedremo poi se la possiamo restaurare in qualche modo e questo invece è un modellino fantastico perché si tratta della Mercedes 350 SL numero 213 prodotta tra il 1975 e il 1980 questa è la versione del 79 quindi più di 40 anni fa l'ho pagato un euro è veramente un prezzo ridicolo perché comunque le condizioni sono ancora ottime a parte qualche screpolatura sulla vernice ma poca roba il trasparente è ancora perfettamente integro questo quasi sempre salta via gli interni sono lindi e sono perfetti la base è assolutamente eccezionale come le ruote sono ancora perfette funzionano benissimo le sospensioni scorre benissimo si apre anche il bagagliaio ed è carina anche questa cosa giusto le decal si sono un po' scolorite però insomma per un euro è un acquisto fantastico tra l'altro quando ho chiesto il prezzo all'inizialmente non ci credevo gli ho chiesto il prezzo al venditore mi ha detto un euro io pensavo di aver capito male gli ho detto ma tre euro no no lui mi ha confermato proprio un euro ho cercato di dissimulare per non farmi vedere troppo contento prima che magari mi sparasse poi cinque euro e invece insomma per un euro è un gioiellino questo e sono diciamo che mi ha mi ha reso sicuramente felice questo questo acquisto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti